Alvaro, rinascita sociale, quali obiettivi si pone questa associazione? Buongiorno a tutti, un'associazione culturale, un'associazione di giovani che raccoglie chi vuole aderire, chi ha voglia di fare qualcosa in questa città, chi ha voglia di ricercare, ritrovare quelle che erano le risorse, quelle che erano i desideri degli imperiesi, quelle che erano le speranze di tanti anni fa, di tirarle fuori e rinascere, rinascere. Non ci nascondiamo che questa sarà l'associazione, è l'associazione che appoggia la candidatura al sindaco di Ivan Bracco. Assolutamente sì, l'appoggia, lo dite voi, in giro se ne parla già, per parte mia io non faccio politica, Ivan è un caro amico, è una persona che penso sia nel cuore di tanti imperiesi e ovviamente l'associazione, non possiamo nasconderci, nel momento in cui Ivan insisterà in questo suo pensiero, assolutamente lo appoggeremo a tutto campo. In estrema sinistra, di cosa ha bisogno questa città? Questa città ha bisogno di rinascere, come diciamo noi, perché sicuramente ha tante potenzialità, ha tante persone che hanno smesso di sognare, si sono appiattite su quello che c'è intorno a noi, che al di là di quello che può apparire, manca di tanto, manca di tanto. Cerchiamo quello di cui manca, di tirarlo fuori e di aiutarci l'un l'altro a farlo emergere. Il nostro sogno è quello. Grazie.